Allora mettiamo in chiaro le cose prima di parlare di risultati eccetera eccetera Dobbiamo sottolineare che è il risultato, le prestazioni diciamo più importanti Parliamo una alla volta Capitemi, posso dire una cosa? C'è un certo Jamy che ha fatto un'invasione di campo e io ne registro Ma che? No, secondo me posso dire una cosa Secondo me semplicemente di fuori dai pali ho tirato dalla mia difesa E ti ho fatto tutto di parlo Secondo me detto da chi lo vede ti ha uccellato Ah benissimo benissimo Poi tutti venuti a voi perché avete disputato una bellissima cara dopo già aver giocato precedentemente nel quarto di finale di ritorno Bellissima questa prestazione, avete vinto Mi sono divertito La prossima volta Ah per così siete tutti scegli Allora Allora Facciamo l'appuntamento la prossima settimana Se ci siete ce lo fate sapere Giochiamo nuovamente alle 18 Sono due su tre Noi faremo la prima Come il tennis Noi ruotiamo Tu devi portare gente del candela Noi portiamo Bosso Sicuramente Noi facciamo la squadra nostra C'è una settimana la prossima Allora I miei complessi C'è una settimana la prossima